Va bene, adesso proseguiamo con le altre componenti e un elemento importante è che capire il processo d'acquisto ancora una volta non è a sé stante, cioè non capisco il processo d'acquisto perché così ho un business plan più completo, ma perché devo fare delle cose. In funzione del processo d'acquisto scelgo il prodotto migliore, allora i prodotti si possono distinguere a seconda della frequenza d'acquisto e del livello di differenziazione, quindi io ho capito chi decide, chi compra e così via, nel comprare può basarsi su prodotti che hanno frequenza d'acquisto alta o bassa oppure su prodotti che sono più o meno differenziati. Questa cosa qui è importantissima perché cambia tanto le regole che riguardano esattamente le logiche del mercato in cui agisce il mio prodotto. Io devo capirlo, se il mio prodotto che è a livello di differenziazione, il mercato non è mio, il mercato molto differente oppure se è una frequenza d'acquisto alta o bassa. Nell'ottica di quello che dicevo prima vi dico direttamente delle possibili soluzioni. Il mobile antico ha un livello di differenziazione che è praticamente bassa, scusatemi forse non sono emerse le cose, quindi è basso in alto e basso questo qui. Quindi basso, basso, quindi il mobile antico e la polizia di assicurazione per il furto è qualcosa che ha una frequenza d'acquisto bassa e un livello di differenziazione bassa. Sono al contrario agli assi. Quindi questo significa che questo mercato, che quindi può essere differente per macroambiente, microambiente rispetto ad altri, può essere differente a una domanda potenziale di un certo tipo o una domanda praticamente del mercato servito di un certo tipo, ha un processo d'acquisto di un determinato tipo, è poco differenziato e ha una frequenza d'acquisto bassa. Anche questo va declinato per il mio business, perché caratterizza il mio business. E quando anche qui gli chiedo qualcosa alle cerche di mercato ho sempre il stesso ragionamento. Se è un mercato che ha un livello di differenziazione basso non farò ricerche di questo genere. Se invece un livello di differenziazione è alto approfondirò come il cliente si pone di fronte alle differenziazioni. È un elenco di cose che dobbiamo valutare dentro le cerche di mercato. Se io prendo invece l'autovettura e prendo la crociera oceanica ho una bassa frequenza d'acquisto. Uno non esce e ho detto ho comprato una vettura ieri pomeriggio, però il livello di differenziazione è molto alto. Sapete il percorso che uno ha nella ricerca dell'autovettura ideale. E probabilmente nella crociera come per i viaggi ha lo stesso ragionamento. Notate infatti che probabilmente per questo l'online non funziona, il mobile è antico, cioè non lo ricerco sull'online, posso che qualcuno magari lo può fare. E non ricerco per esempio la polizia di assicurazione per il furto, non quella normale per auto. Invece questo qui ha l'online perché essendo molto differenziato è meglio dare strumenti che aiutano a differenziare. Veloci di ricerca. Siccome è poco differenziato certi strumenti non servono. Viceversa la frequenza di alfisto è molto bassa, meglio mettere un gestore che ti aiuta a scegliere. Qui meglio non mettere un gestore che ti aiuta a scegliere. Quindi segmentare il proprio prodotto per queste quattro caratteristiche aiuta a fare delle decisioni di marketing che sono più o meno corrette. Le storazioni veloce e il dentifricio sono molto differenziati però ad alta frequenza. E invece su sale da cucina rifornimento carburante sotto strada è poco differenziato e ha una frequenza di acquisto molto alta. Anche qui le logiche di marketing possono essere totalmente diverse. Una frequenza di acquisto molto elevata vuol dire che l'attrattività comincia ad andare non nella valutazione dell'acquisto, ma nella disponibilità. Ecco perché chi fa questi prodotti ha una catena distributiva molto radicata. E ha un livello di gestione che invece è molto bassa. Per il sale da cucina non trovate mai uno che fa il promoter. Però non sono, ecco, voglio dire, non sono delle... Noi molte cose le vediamo in automatico. Però mettendosi dall'altro lato le decisioni sono prese proprio perché ha valutato come deve essere il prodotto. Quindi quando vedremo il business capiremo, mi è incastrato qua, quali sono le azioni che possono avere più senso o meno senso. Le ricerche di mercato, se devo approfondire questo, sono molto diverse. Cioè nel senso che se io ho una frequenza di acquisto molto elevata, devo capire quali sono gli elementi indifferenzianti in una logica di frequenza di acquisto molto elevata. Probabilmente saranno appunto il prezzo, il packaging, accattivante o non accattivante, perché è una cosa che io prendo così. Invece qui potrebbe essere il livello di preparazione del gestore, il fatto di far scaturire il bisogno, visto che qui è una cosa più ricercata. Quindi qui il bisogno viene quasi in automatico, nessuno ti pubblicizza il sale, probabilmente, no? Quindi cambia anche le leve che vado ad utilizzare se faccio quest'anesi mercato che aiuta tutto il marketing. Sapete, è bello fare il modulo proprio delle leve di marketing, no? Così uno vede l'applicazione di tutte queste cose. La segmentazione del mercato, già l'avete visto qui. Segmentare aiuta e aiuta sostanzialmente a servire meglio. Ricordatevi che qualcuno è sempre disposto a pagarvi un po' di più se a se gli avete marchettizzato bene il prodotto, cioè l'avete piazzato il prodotto. Per poter piazzare dovete conoscere chi sta dall'altra parte, che nel caso è il cliente, e dovete dargli quello che è più adatto per lui. Allora, da segmentare non si può prescindere. Fra l'altro io utilizzo la segmentazione proprio come criterio decisionale. Cioè, in realtà la segmentazione è, al di là dell'aspetto, diciamo, di questo genere, è un mio principio con cui affronto qualsiasi cosa. Mi permette, praticamente, di essere molto veloce. Quindi questo con le metodologie invece di business nelle vostre aziende. Voi sapete benissimo che la tridimensionalità ancora non ci hanno data. Quindi già il bidimensionale va bene. Allora, qualsiasi fenomeno può essere alto e basso. Qualsiasi fenomeno. Quindi qualsiasi cosa, gli si può assegnare un'intensità. E normalmente si può mettere qualcosa o totalmente a destra o totalmente a sinistra. Questo divide. Permettere di dividere e quindi di scegliere. La matrice 2x2 ha una grande potenzialità. Perché in realtà isola proprio questi. Che sono alto, alto, basso, basso. Su cui le decisioni diventano quasi automatiche. Perché se una cosa è per definizione basso, basso, io la posso suggerire quanto voglio. Quindi in realtà sono questi, di quattro problemi, i due più importanti. Allora dipende moltissimo da come io ho isolato questi due fenomeni. Quindi conviene fare la ricerca di mercato oppure no? Prezzo, risultato. Voglio spendere tanto con un basso risultato? Voglio spendere poco con un risultato che è elevato? Me le devo porre queste domande. Se io me le pongo e separo, allora scelgo. Se io non separo, allora avrò, supponete di avere quattro offerte di analisi di mercato. Come le scelgo? Quindi determinare delle variabili, segmentare le cose, scegliere e chiaramente mettere a destra o a sinistra, facendo uno sforzo, aiuta molto valiente il ragionamento vostro e soprattutto di chi legge le vostre cose. Talmente che se io avessi presentato una cosa del genere, mi avessi detto no, questa non la facciamo sicuro. Questa qui, eh sì, però costa. Quindi dice, ah vabbè, se costa poco ho lo stesso risultato di questo, però vedete che diventa quasi oggettivo lo scegliere. Becco perché nel marketing si usa la segmentazione. Provo perché io riesco attraverso la segmentazione a dividere e a scegliere al meglio. Tant'è che si utilizza tanto la segmentazione che addirittura si fanno quattro, fareste qua, quattro ricerche diverse. E quindi io andrei ad un cliente dicendo, vuoi spendere poco con basso risultato? Ricerca A, 5 euro. Vuoi spendere tanto con alto risultato? 3.000 euro. Io alla fine non ti voglio mai scontentare perché tu non potresti fare questo, però a un prezzo che è molto più basso. E quindi in realtà si fanno i prodotti per gli incroci. Quindi nel vostro business plan non fate un prodotto. La definizione non comparite mai con un business plan che io faccio questo. No, io faccio questo e ne ho quattro tipi perché siccome ho quattro segmenti di mercato, ho quattro prodotti diversi. Anche se siete all'inizio della start up. Perché questo è più intelligente, no? Vuol dire che io ho individuato un mercato che posso raggiungere, l'ho suddiviso e ho già individuato quattro tipologie, praticamente, di cose. Vediamo per esempio questo qui, il mercato del formaggio. Ho quattro prodotti, anzi li vediamo dopo. In realtà io posso avere un incrocio tra segmenti di mercato e tra prodotti. e dall'altra parte devo metterli in una matrice che ha da un lato l'immagine e dall'altra la conservabilità. Ricordatevi che questi due assi non sono mai correlati. Cioè posso tranquillamente avere qualcosa che ha un'immagine tradizionale ma una bassa conservabilità. Cioè quando fate i segmenti, le cose non devono mai essere correlate, se no non sono dei segmenti. Poi proveremo, proviamo magari a esercitarci e a vedere che tipo di segmenti sono ipotizzabili. Se io considero il segmento di alta conservabilità e in questo caso valente industriale, io ho i formaggi freschi moderni, quindi alta conservabilità però di tipo industriale. Dall'altra parte lo associo con i fortemente tradizionalisti che consumano prodotti appena acquistati. Cioè gli piace mangiarlo subito, però sono tradizionalisti. E quindi l'alta conservabilità può essere un elemento che per loro è interessante. Se invece vado nel mondo del tradizionale ad alta conservabilità, qui ho tradizionale, quindi comincio con quelli nei centri agricoli. Notate che le variabili di segmentazione non sono molto diverse da tutte quelle variabili che sono sempre le stesse che sono state considerate. Poi nel mio mercato vedo chi sta nel centro agricolo, chi sta in città. Di queste, quelle che hanno determinati caratteri e segmento, no? Queste legate alla cucina tradizionale, piuttosto a spese frequenti, preferiscono creare scorte alimentari, quindi sono tradizionali. Però l'alta conservabilità e quindi a questo punto gli do il formaggio stagionato. Oppure ho una bassa conservabilità e un'immagine industriale, quindi sarebbe sostanzialmente la mozzarella industriale, ma ci sono dei clienti per questi. Qui non è vero che il basso basso non ha clienti. Il basso basso ha clienti, ha un prodotto diverso. In questo caso, abbiamo prodotti pratici nell'uso pensati per un consumatore moderno perché crescono gli acquisti quotidiani. Anzi, per assurdo, se avessi parlato del mondo dei latticini, voi il primo che avreste pensato è proprio questo. Per assurdo, no? E quindi poi l'ultimo. Quindi c'è sempre più valore dando il prodotto giusto al cliente giusto. Quindi all'interno del business plan dovete segmentare la clientela e all'interno della clientela dire io ho 4 prodotti per queste 4 categorie di clienti. Chiaramente vi è chiaro che qui questo si può fare in 70 livelli e cosa si può fare in X livelli. Dove faccio a capire quanti clienti devo mettere là dentro? Allora, ancora una volta, se io defino dei parametri, lo ricalcolo in questo modo, no? Quanti sono quelli che vivono nei centri agricoli e che amano il formaggio così? Prendiamo tutti i centri agricoli e capiamo quanti ce ne sono nei centri agricoli, di questi quanti non sono formaggio e così via. Oppure viceversa, prendo tutti quelli produttori di formaggio tradizionale, almeno capisco quanto potrebbe essere. Due tipologie di informazioni si costruiscono dall'alto o dal basso. Questo è un altro esempio di segmentazione, ma la stessa logica di quello che vediamo prima. Ok, due flash veloci sulle ricerche di mercato. Quello che mi dicevi prima, come faccio le ricerche di mercato? E questo, diciamo, come vedi, è quello che poco amo di più perché in realtà non la farei mai. Però, allora, innanzitutto, le ricerche di mercato sono sostanzialmente tante. Cioè, qui siamo nel mondo esattamente del ho capito che variabili entro in eurisco. Allora, il depliant al contrario funziona così. Guardatele adesso, voi siete quelli che avete imparato le cose da quella barricata, no? Adesso c'è il fornitore di qua. Provate la legge con quello che vi ho spiegato fino adesso. E se provate a leggere, se io non vi avessi spiegato nulla. Lui veniva e vi diceva, ho studi di tipo strategico, qual è l'analisi del cambiamento sociale e culturale per identificare i bisogni emergenti e nuove opportunità di mercato. Prima avresti detto, ah, nuove opportunità di mercato, quindi mi dice cosa posso comprare. No, questo è il macroambiente. Questo vi dirà, il PIL sta andando nel mio automoto, la popolazione sta invecchiando. E quindi sei tu che attraverso queste variabili macro per capire l'impatto che può avere sul tuo business. Però questi sono gli studi sull'analisi del cambiamento sociale e culturale. Quindi sei andato in un'agenzia che fa ricerca di mercato, ha tanti studi sui macrofenomeni del macroambiente. Studi su segmenti specifici della popolazione, teenager, upper class, senior, per individuare i bisogni e trend evolutivi. Quindi in realtà è sempre macroambiente, il famoso mondo microambiente, quello che si chiamava clienti, in cui sta facendo delle analisi su dove stanno andando. Questa, se voi andate su internet con pdf, se prendete il segmento che vi interessa per voi, ce ne sono tantissime. Quindi dove ci saranno informazioni? Tante. Però che quella informazione serve per la vostra azienda dipende dalle ipotesi che voi vi fate e che dovete andare a testare. L'indagine sui comportamenti di acquisto. E questo è il processo di acquisto. Chi compra che cosa, nei teenager, cosa compra, decido io, decide qualcun altro, io decido quell'altro compra. Quindi per esempio sul mondo degli elettrodomestici e l'i-fi e così via, ci sono tanti studi sul processo di acquisto degli i-fi che loro hanno già preparate. Oppure uno gliele può richiedere. Poi ci sono diagnosi e progettazioni e posizionamento di prodotti e di marca. Questo che significa? Quello che dicevo prima. Conosci i colgate? Ti piace i colgate? Che cosa ti ispira i colgate? Questi colori blu e rosso, cosa ti ispirano? È un posizionamento di marca. Loro sostanzialmente non fanno nient'altro che prenderti dei parametri e dirti il tuo prodotto è qui. Perché, che ne so, a z è più percepito nel mio automoto. Come i formaggi e le mozzarella, loro ti dicono in che matrice di posizionamento rispetto alle mie variabili sei posto. Ma queste variabili, chi gliel'ha date? Sempre. Chi gliel'ha commessionato? Mi posizioni rispetto a queste variabili che io penso per il mio prodotto, sei veramente percepito nel mio automoto? Loro non fanno nient'altro che fare interviste alle X persone, fare la gaussiana e la media. Poi dopodiché li mettono in questo modo secondo questa logica qua. Studi sulla segmentazione dei mercati, identificazione e misurazione dei target primari e secondari. Queste sono le analisi di potenziale. E quindi loro non fanno nient'altro che calcolarsi quelle percentuali che abbiamo visto per i fumatori su un panel di persone, poi lo ribalto sull'intera popolazione e ti dicono applicando queste percentuali il mercato di questo, questo e quest'altro vale. Loro si calcolano le percentuali, prendono le persone e dicono se tu vedi una sigaretta di questo tipo la vuoi o non la vuoi? Fanno questo tipo. Alcune le fanno in maniera sistematica, le vendono ricorsive, altre invece uno gliele commissiona e le fa. Studi sull'immagine di macchie, aziende, gruppo industriale, verifica la potenzialità dei nuovi concetti di prodotto, verifica la potenzialità dei nuovi prodotti, questo è il product test puro. E anche vale per il packaging, i nomi, sensibilità al prezzo, studi sulla comunicazione e qui c'è il processo di discorso. Cioè in realtà sono cose diverse che vengono testate, ma il processo è sempre lo stesso. Analisi e valutazione dei siti web, studi sulla soddisfazione del cliente, ottimizzazione dell'attività di vendita, il mistero di shopping, culture e il clima interno delle aziende. Queste sono le ultime che stanno uscendo, nel senso che vengono fatti da esterni l'analisi del clima interno. Normalmente l'azienda lo fa per fatti suoi, però adesso praticamente siccome ci sono dei professionisti in questo, ve lo fanno tra virgolette nelle vostre aziende. Ed è molto importante perché diciamo avere lo staff service è più importante alcune volte nel fatto dei clienti, soprattutto se qualcuno va via in questo periodo di crisi. Come si fa nella ricerca di mercato? Allora, l'obiettivo è quello che vi ho raccontato fino ad adesso. Cioè l'obiettivo nella ricerca di mercato è quello che vi ho detto fino ad adesso. Avete bisogno di saperla percentuali di fumatori che comprano l'accendino. Avete bisogno di sapere se il PIL cala che impatto ha sul vostro business. Avete bisogno di sapere se gli altri concorrenti hanno fatto qualcosa sul vostro prodotto. Questo è l'obiettivo. Loro cosa fanno? O voi cosa potete fare? Tanto non cambia. Alla fine dovete scegliere la tipologia di dati, se qualitativa o quantitativa e se interna o esterna. Non ci sono grandi decisioni. Dopodiché bisogna fare solo domande. Provo a spiegarvi queste. Qualitativa, quantitativa, interna e esterna. Interna e esterna all'azienda qualitativa e quantitativa. Interna all'azienda che sia praticamente qualitativa vuol dire che io faccio dei focus group dentro l'azienda. Qualitativa vuol dire che io domando, non ho numeri sottostanti che io elaboro. Quantitativa vuol dire che cerco dei numeri e li elaboro. Per esempio la definizione del mercato potenziale che ho fatto prima, X consumatori per X cosa, quella è totalmente quantitativa. Sono delle basi dati che vado a cercarmi. Quindi se io chiedo a una società di ricerca e mercato mi dici quante aziende sono praticamente in Abruzzo sotto i 10.000 dipendenti, sotto i 100 dipendenti, quella è una esituzionalmente quantitativa. Mi dici quale di queste aziende nell'ultimo periodo hanno investito? Quantitativa. Mi dici quante di queste aziende sarebbero interessate a parlare di sicurezza? Qualitativa. Quindi la prima cosa è che loro separano le quantitative pure e le qualitative pure. Dopodiché decidono se devono farle con dati interni o con dati esterni. I dati interni sono quelli che si devono procurare totalmente loro. I dati esterni sono invece quelli che devono procurare sostanzialmente la fonte esterna, che possono essere anche qualitative, nel senso che sono quelle in cui loro chiamano telefonicamente te che sei a Canicattì. Mentre su queste sono delle liste che tu normalmente gli dai, perché loro dici io te l'anasi mercato la faccio, però mi dai praticamente i 100 clienti tuoi che io li intervisto piuttosto che scegliere io i 40.000 in Italia li chiamo io. Quindi questa è la cosa che loro stabiliscono come scelta di fare praticamente la ricerca di mercato. Se la faceste voi non cambia nulla, tanto la prima cosa che andreste a decidere sono sostanzialmente queste cose qua. La conduzione della ricerca e lo faccio in tre mesi chiami tu, chiamo io, ci organizziamo in tre settimane due team e proprio veramente di organizzazione della ricerca. Elaborazione di data processing sono quei quattro metodi che permettono di tirar fuori una media rispetto a un'analisi. Invece questo è vediamo direttamente questo qua, eccolo qua. Le domande è come formulare le domande. Ecco, questo è l'elemento pratico della ricerca di mercato. Allora, le domande possono essere aperte o chiuse. Quindi, quando faccio le domande di una ricerca di mercato devo stabilire le domande chiuse e le domande aperte. Ogni domanda è o aperta o chiusa e non è banale perché è lì che si gioca tutto. La lascio aperta perché la voglio aperta. Mi suggerisci il colore con cui dovrebbe essere fatto questo. perché la voglio aperta, perché ho bisogno di stimoli. Mi suggerisci tra questi sei colori quello che ti piace di più è totalmente chiusa. Perché la voglio chiusa? Quindi, le domande sono o aperte o chiuse. Poi c'è una logica di filtro e questo va di niente più, è diciamo l'unico trucco che vi do sulle ricerche di mercato. Quando uno fa una ricerca di mercato non è che la prima domanda dice se ti compresti l'accendino. Cioè, è veramente qui la domanda se ti compresti l'accendino. Che cosa ne pensi del fumo? Il fumo è entrato mai nella tua vita? Aspettate, prima in testa ci sono chi sei e chi non sei, no? quindi le anagrafiche e le demografiche che permettono di segmentare. Cioè, un pezzo sopra che permettono di dire a parità di risposta prendiamo i giovani, gli anziani, le donne, gli uomini, quelle della basilicata, quelle che hanno un titolo di studio così, sono una serie di variabili di segmentazione che tu in realtà compili ma permettono quando uno fa l'analisi di dire ok, questo me l'hanno risposto ma sono di questo genere. Quindi questa è la parte diciamo così che serve per segmentare. Poi qui sono le domande. Nelle domande esattamente si parte con una parte che entra nell'argomento. Devo chiedere sempre quanti accendini? Perfetto. Che ne pensi del fumo? Sei attratto dal fumo? Hai mai fumato? Quanto frequentemente fumi? Di che accendini ho usato fino a ieri? Cioè, lo faccio entrare nel ragionamento quando normalmente lo compri? Con che frequenza? Ci sono tutta una serie di domande che poi arrivano alla domanda finale e dice compreresti questo accendino? Quindi in tutte le ricerche di mercato nei questionari c'è un filtro che porta alle 7-8 domande chiave che sono quelle del vostro obiettivo che vengono poste in coda perché poi alla fine voi che cosa mettetevi adesso dall'altro lato? Voi dite io voglio sapere quanti comprebbero l'accendino e quello ti dice il 50% ah, basta? Però se prendo i ventenni è il 70% però se prendo quelli che non hanno già fumato è il 38% però se prendi quelli che non hanno già fumato che l'hanno comprato è il 42% e questo che è la fine la ricerca di mercato cioè su un argomento specifico ti dà la risposta ma ti segmenta il risultato perché tu devi leggerlo con queste logiche qua ecco perché il vero casino è il dopo non nel farlo che questo qui se per tempo a fare questo qui anche tu te lo faresti così perché giustamente che significa dire che il 50% lo compra? No? Invece quello che ti serve è chi sono questi qua il 50% se diventano 70 in alcuna situazione se diventano 20 in altre e così via quando lo leggi allora devi rifare le cose che dicevo prima segmenti prendi questi dati e li utilizzi per fatti quei ragionamenti che facevi prima ma questa è la sequenza questa è l'informazione chiave che loro ti risegmentano in questo modo quindi cosa fanno? Se questo è fatto con 5 livelli la media è 3 però se io prendo quelli che sono giovani 2,5 se prendo quelli che sono invece di Lombardia 1,8 se prendo quelli che hanno già fumato 3,7 tant'è che poi cosa fanno? Prendo questa informazione nella presentazione finale loro guardandosi i dati ti costruiscono una storia per raccontartela giustamente più correttamente qui uno dice nel mondo del fumo c'è un interesse medio o alto che è più alto sui giovani meno sugli altri che c'è lo stesso a frase se tu noti nelle presentazioni c'è scritto l'interesse per l'accendino è alto più basso sugli anziani più alto sui giovani segmentazione demografica più alto nelle città meno nei centri rurali segmentazione per tipologia più alto su chi ha un'esperienza che però ha già comprato quindi in realtà è come se su un albero con la stessa indicatore tu avessi una serie di approfondimenti verticali che non sono nient'altro che queste domande qua però non puoi arrivare all'ultima domanda immediatamente perché sennò ti sei giocato tutte le precedenti perché uno deve essere cosciente che non essendo fumatore non piacendogli il fumo o tutta una serie di cose quando arriva sotto quindi compresa la sigaretta è no perché tanto se no non è vero cioè lui deve essere consapevole di voler comprare qualcosa se non è consapevole in realtà ti dà una risposta così ma non serve a niente ah scusatemi allora di controllo ah ecco ci sono favorisco l'identificazione di risposte in contrasto tra di loro ci sono delle domande che prima metto una cosa quindi te la rifaccio sono come quelle per i test psicologici non cambia molto di più allora invece come formulare le domande essere brevi evitare fraintendimenti usare il linguaggio semplice diciamo vabbè questo qui è semplice non è vero ti faccio formulare la domanda di un test di ricerca sicuramente non sarai breve perché quando essere brevi significa arrivare guardatele proprio qualche domanda guardatele come sono formulate perché sono formulate in maniera breve ma al punto vi dicevo se questo fosse stato giallo quale sarebbe stato il tuo livello di gradimento bassissimo basso medio medio alto alto ma ti piacciono i colori pastello no era alto il giallo il giallo canarino quello che è poi non ti piacciono i pastelli cioè sono fatte semplici però in realtà ogni domanda escluderà nel famoso motorino quando quelle di controllo non funzionano come quelle vere cioè danno un segnale contrastante vengono eliminati per esempio questa è una logica che io l'utilizzo non chiedere eccessivi sforzi di memoria non indurre la risposta non fare più domande nella stessa frase tant'è che le analisi di mercato sono lunghe proprio perché il problema vero è quello di evitare due domande nella stessa frase se no crea confusione non facciamo questo e invece facciamo il caso di una start up ce ne sono dei fogli ulteriori qui per caso riprovo maschera si possono girare ok dove è il nostro start up pista si vabbè tanto se possiamo usare questo qua che fate riprendiamo vediamo se c'è qua riprendiamo un secondo anche quella di ieri viene qui ti chiami un microfono lo sediamo qui si oppure qua qua che è più bello mi chiamo Bertalan Bertalan il soggetto è mappiamo mappiamo perfetto se riesco a recuperare ma non c'è connettività sto scrivendo c'è sulla carta business abbiamo detto che si chiama chiama map mappiamo va bene allora prima cosa se volete esercitarvi anche voi segnatevi questo è un esercizio tra virgolette di analisi di mercato in generale che si può fare in cosa io ho un microfono posso tenerlo mi tolgo la giacca ok va bene tu riusciresti a darmi una business definition che significa ok lascia pure di lato vediamo se ci serve che significa definire il tuo business sì che ieri abbiamo detto essere cosa per chi cosa produco per chi produco sì quindi cosa fa questo business realizza un CMS che è un corrispondente di Wordpress o Joomla pertanto facilita l'utente nella realizzazione di un sito con contenuti dinamici come? vigere afferenzazione esatto pertanto il mio obiettivo è quello di fornire a tutti praticamente anche a chi non è competente del settore la possibilità di sfruttare gli open data all'interno di un sito locale pertanto tranne quelle delle poesie probabilmente quindi tu sei un provider sì fornitore di servizi provider di soluzione per di soluzione open data per siti per siti immobiliari turistiche o anche di associazioni di categoria quindi per aziende sì e anche non però prevalentemente business to business piuttosto che il cliente finale sì quindi provare delle soluzioni open data per i siti quindi se uno ha un sito può praticamente attraverso i tuoi servizi mettere a disposizione dati in formato open data se capisco bene metterli a disposizione e sfruttarli nel senso li generi con la raccolta delle informazioni pertanto li metti a disposizione come altrettanto li puoi recuperare da delle fonti certe e pertanto come dire ampliarli perché magari il comune la pubblica amministrazione ti mette a disposizione determinati dati i quali tu vai ad integrare allora questo definisce chi sono cosa faccio e per chi quindi sono un provider di soluzioni open data poi magari non l'abbiamo scritto corretta però come prima logica per chi in questo momento siccome mi ha detto privati, aziende e così via è essenzialmente per i siti lui quello sarebbe il cliente se no potrebbe essere privati e aziende che hanno un sito quindi meglio secondo me privati aziende che hanno un sito ok e questa è la business definition cioè noi sappiamo sapere che business deve fare che se no non lo scioglie poi c'è la vision la domanda è tu fra dieci anni dove stai Bill Gates chi di questi io probabilmente starò in Brasile a surfare da qualche parte allora la vision è diventare il miglior surfista allora la vision di un'azienda è sostanzialmente in qualche modo ok io faccio questo ma sto scherzando l'obiettivo vorrei domani cambiare il mondo il buon Steve Jobs diceva vorrei Bill Gates mi immagino un mondo in cui domani ognuno abbia un computer quindi la vision di questa azienda è fra dieci anni attraverso la tua azienda il mondo cosa potrà fare? potrà fare una condivisione peer to peer dei dati ok quindi praticamente la tua vision è assicurare assicurare una condivisione incrociata di questi dati condivisione mettiamo due aggettivi sì sicura sicura certificata certificata perché sarà l'informazione di prima mano perché io compilerò la mia scheda un altro aggettivo è aggiornata le parole nelle frasi hanno più valore della frase quindi quando le scegliete scegliete è aggiornata è real time real time esatto a tutti cosa stiamo estendendo di questo sì a disposizione di tutti perché poi alla fine non c'è una limitazione ok possiamo mettere il migliore in questa frase qua sì assolutamente è il migliore è il migliore nel condividere è il migliore nel certificare è il migliore nel real time tranquillamente quale di questi devo scegliere? per il migliore nella vision c'è sempre vorrei essere il migliore in fare qualcosa cioè vorresti essere tra dieci anni riconosciuto il migliore condivisore di questi dati quindi per la quantità allora per la quantità quindi tu lavori per far questo ma la tua visione è che fra x anni saresti il primo sul mercato per la quantità di dati che attraverso le tue soluzioni sono messe in condivisione ok sì perfetto adesso dobbiamo fare l'analisi di mercato innanzitutto lo definiamo il mercato mio mercato attualmente torniamo sulla definizione di mercato ok grazie se no vuol dire che è già impaduto la memoria se vuoi fare tutto quanto non serve l'esercizio quello che ho individuato io nel mio piccolo arriviamo arriviamo allora vediamo che grazie a questo incontro sto ampiamente cambiando perfetto ottimo adesso abbiamo distrutto un business nascente che poteva vabbè è sempre meglio ci prenderemo le responsabilità dovute da buoni imprenditori sono reduce da start up weekend da Bari che mi ha completamente capottato perfetto per cui oggi stiamo ancora un altro ok allora il mercato di riferimento abbiamo detto che il mercato della nostra impresa soprattutto i futuri concorrenti clienti è importante allora capire praticamente il mercato significa capire quelle che sono le determinanti che incidono sui clienti adesso ti metto cosa c'è nel mercato nell'ambiente di mercato e mi dici tu secondo te che cosa praticamente può influenzare il mercato vediamo se io non so se è quella lì di ieri qua forse no vediamo un attimo un secondo allora vediamo questo ok perfetto vediamo vediamo cosa ruota intorno alla tua azienda sì perfetto non dobbiamo riempire tutte nel senso che qualcosa ruota e qualcosa no certo perfetto allora sicuramente ruoterà questo tecnologia no non ho capito nella tua tu agisci in un mercato in cui in questo mercato che è quello praticamente dei provider di chi fornisce queste soluzioni probabilmente nel mondo esterno c'è qualcosa che può influenzarti che non è il tuo business cioè la tecnologia in generale può influenzare il tuo business che ne so magari adesso si lavora con un certo linguaggio di programmazione o i dati sono fruibili in un certo linguaggio di programmazione e domani potrebbe non essere così quindi quali sono le componenti della tecnologia esterne a te che magari può essere quando tu fai il sistema integrator ti integri con altri sistemi che in qualche modo se cambiassero potrebbero darti dei problemi è quello che riguarda i servizi di hosting degli altri pertanto domani non c'è più MySQL come database dovremmo cambiare database ma non influenza il nostro prodotto prevalentemente per quanto aiuta a percepire la facilità d'uso è qualcosa che se cambiasse potrebbe impattare il tuo business si diciamo che la nostra scelta è stata invece di utilizzare MongoDB o un altro database non SQL abbiamo utilizzato ma SQL perché è quello più diffuso va bene però aspetta il problema è che io sono un investitore quindi in realtà se mi parli di SQL non capisco ok il discorso è attualmente dove stai lavorando attualmente lo standard lo stato conoscenza di mercato è quella devi far capire la tua azienda che è questa cosa ha intorno quindi intorno per me che non capisco assolutamente nulla del tuo business ci sono mi pongo la domanda ci sono degli elementi di tecnologia mondiali che possono impattare il tuo business allora tu mi devi rassicurare che questo componente è un componente che sostanzialmente non impatta o impatta il tuo business se l'impatto non impatta in un modo positivamente negativamente uno è l'hosting mi stai dicendo ci sono altri componenti di tecnologia che possono impattare il tuo business il linguaggio con cui ho scritto che però è legato all'hosting pertanto non abbiamo altro metto qui come linguaggio vabbè facciamone uno per un attimo sì perfetto poi dopodiché abbiamo l'ambiente economico secondo te se l'Italia va in crisi potrebbe compare meno il tuo business oppure no gli frega anzi aumenterebbe di più quindi potrebbe essere un valore sì un valore a favore quindi un valore a crisi economica però il tema vero è quello degli investimenti perché io come fondo la prima cosa che ti chiederei è come mai le aziende non investono perché dovrebbero comprarsi con il tuo software quindi tu mi devi aiutare a capire che non è così o che è così ma si può fare diversamente chiaro perfetto poi dopodiché sulla politica istituzione c'è qualche norma che in qualche modo secondo te può impattare il tuo business? impatta favorevolmente la legge sugli open data di quest'anno di marzo che però è altrettanto un'arma a doppio taglio perché il 99% delle persone non la conoscono ma ok però questa è una derivata secondo me adesso facciamo solo un elenco ok quindi c'è la legge l'open data e poi l'agenda digitale anche perfetto su socio culturale non lo so probabilmente sì il fatto che le persone hanno più bisogno di dati disponibili chiedono all'amministrazione o chiedono dei dati disponibili lo chiedono e hanno l'esigenza di rappresentarle diversamente che non quelle di un voglia di dati su internet ok va bene va bene così per il momento quindi diciamo abbiamo trovato x componenti andiamo nel mondo interno tu hai dei fornitori poi hai gli intermediari e poi hai i clienti vero? sì ok quali sono secondo te delle componenti che valorizzano cioè in molto positivo o in molto negativo il tuo business cioè dei rischi e delle opportunità che tu pensi ci siano su questi sui fornitori? sui fornitori potrebbe essere la disponibilità del servizio che il cliente potrebbe riscontrare i tuoi a miei fornitori prima della tua impresa ok nessuna hai degli sviluppatori? sì interi gli sviluppatori sono legati mani e piedi o se ne posso andare domani mattina? io sono un fondo in questo momento possono andarsene domani mattina ma lo skill del mio sviluppatore tipo è normale ok quindi il know-how sta dentro di te il know-how vero e nel concetto? sì nel concetto no l'investitore non glielo direi mai che nel concetto se no sarete in grado di farlo anche voi quello che ho fatto io no però il know-how per fare questo tipo di impresa che è veramente unica sì cioè il fatto che e sono tranquillo che non ci sono forze che in qualche modo possono condizionarmi dove sta perché questi abbiamo detto che tendenzialmente sono degli sviluppatori ma sono una commodity li posso facilmente trovare quindi questo praticamente io se posso dire è frammentato più diciamo così non legato sì sì quindi non senti vediamo la contrario l'opportunità non senti il tirare i piedi da parte del tuo fornitore perché questo puoi cambiarlo esatto sostituibile qualcuno deve convincermi invece che il know-how sta saldamente qua dentro perché se no tranquillamente sì perché la tecnologia che è a nostra disposizione è il tutto l'insieme è a portata di chiunque voi andate in internet e trovate uno che programma in PHP è un linguaggio di programmazione è in grado di realizzarlo nel senso è copiabile è replicabile 100 miliardi di volte non è questo il problema hai degli intermediari? ho degli intermediari che sono il vero valore prima del cliente che vengono da te prima del cliente e sono le web agency con le quali hanno l'esigenza cioè le agenzie che creano questi progetti e li vendono al cliente finale o comunque hanno l'esigenza di costruire quindi è una serie di contatti legati con agenzie agenzie esatto o nel caso particolare con il cliente finale che magari non è il cliente piccolo ma un'associazione di categoria o cose del genere ok e invece sui clienti ci sono delle componenti del cliente che possono cambiare o non cambiare il tuo business? sia nel cliente sia nei contatti l'ignoranza l'ignoranza non è l'equivale a considerare il cliente stupido ma non conoscere le possibilità che gli offre questo insieme di tecnologie ok i clienti abbiamo visto ieri che in realtà li vediamo visto oggi con diverse tipologie di clienti però la determinazione innanzitutto chi sono questi clienti? sono aziende sono privati? sono aziende o privati chiunque facciamo i due modi e qui sono nella difficoltà vera nel mio progetto sono aziende o privati quindi sono le aziende qual è il tipo di aziende? come? qual è il tipo di aziende? io ho individuato il mercato nell'immobiliare turismo e le associazioni immobiliare turismo associazioni? associazioni di categoria ah in mente nei privati? famiglia e single? famiglia e single è il fruitore del risultato non è il mio cliente diretto sì io sono una sorta di B2B2C ok per cui il mio cliente il privato è l'utilizzatore fermiamoci lì perché il B2B2C è nelle leve di marketing per poter convincere questo devo agire sull'altro però siccome sto facendo l'analisi del mercato mi fermo a chi mi dà i soldi sì per un attimo tienilo dopo come ragionamento ok tu individuate queste noi non sappiamo se sono giusto o sbagliate il tema è come se ci sono componenti riguardanti questi business possono influenzare del tuo business cioè se nel mondo del turismo sì ci sono degli investimenti particolari questo è un elemento che può favorire il tuo business sì se nel mondo praticamente delle associazioni e categorie ci sono delle variazioni si stanno aggregando stanno separando stanno praticamente accentrando alcune cose queste sono delle componenti che sono particolari certo sul turismo lo so perché lo so io ma sulle altre tu hai notato che ci sono dei componenti di questo genere sì allora per quanto riguarda l'immobiliare oggi l'immobiliarista insieme all'agenzia tradizionale si suddivide i siti propri in un sito divulgativo dove agisce da solo metto proliferazione di siti sì agisce da solo o agisce in una catena pertanto ci sono varie agenzie che fanno parte dello stesso marchio quindi qua vedi questo qui interessante perché c'è una proliferazione di siti questo è il turismo perché va niente si investe sì situazione di categoria altrettanto ha la necessità di offrire dei dati che sono poi facilmente trattabili anche esportabili o aggiornabili perché il problema oggi vero è che io ricevo ancora la pubblicità di pagine gialle di dieci anni fa chiaro ma i dati non esistono nel senso quei dati non sono più veri ok ma per pagine gialle andare ad aggiornare la propria scheda oggi comporterebbe l'altrettanto costo come acquisire acquisirmi come cliente in questo modo due rappresentazioni di dove agisci sì quindi questo è il tuo business sì vorresti arrivare qui nel tempo se dovessi scrivere un business plan diresti io opero in un mercato in cui sostanzialmente in questo mercato io penso di andare a lavorare su una tecnologia attualmente consolidata che può cambiare o non può cambiare nel tempo il fatto che c'è la crisi economica agevola investimenti a più basso prezzo fra l'altro richiesti da evoluzione della richiesta di internet e da leggi che ci sono e dall'altra parte a fronte di delle attività che posso tranquillamente su cui non sono legato come fornitore io do un servizio con una rete già definita a qualcuno che deve investire quindi con questa mappa argomenti meglio che il mercato quello che manca sono gli impatti numerici di queste cose sì allora prendiamone uno di questi no? quella che è la variabile che ho sentito più spesso è numero di siti ok tu vendi a siti se dimostri che queste componenti aumentano il numero di siti già di per sé stai dicendo che il mio mercato potenziale che poi dopo misureremo sta crescendo nel tempo dopodiché c'è l'altra componente percentuale dei siti con open data e poi non è un altro che è attrattività dell'open data cioè se io dimostro che se io entro qua dentro le forze che ci sono qua dentro sostanzialmente stanno spingendo verso una crescita di questi tre allora a questo punto si tratta di dimostrare perché meno qualcun altro ma il macroambiente e il microambiente funziona perché non io e non qualcun altro allora ricerche di mercato che ti dico che i numeri di siti stanno aumentando ci sono il problema è legato a questo dopo l'introduzione legge l'open data che è successo sui siti con open data e quindi vediamo le due tipi di ricerche di mercato cominciamo con la prima se io lo trovo direttamente su Assintel o varie situazioni di categorie che fanno vedere i siti oppure ricerche di google che fanno vedere come l'interesse è avuto nell'ultimo periodo ne trovo a Iosa dall'altra parte se devo vedere quelli che sono open data se cerco su google nuovo portale open data basta far vedere che i portali open data sono partiti da un certo lasso di tempo e stanno continuando a sorgere se ne trovo dieci guarda ce n'è uno nel 98 99 cioè l'open data sta partendo esponenziale le sofisticazioni molte volte devo solo dimostrare un ragionamento quindi questo qui banchi e dati google si c'è un osservatorio internazionale dei siti costruiti sui CMS è palese che stanno aumentando i siti quindi comunque investi in un mercato circa 250 milioni di siti che utilizzano un CMS di cui 200 milioni solo ma dove hai trovato questi dati perché il loro interrogativo è dove li trovano su internet c'è un osservatorio americano quindi hai cercato l'osservatorio e hai trovato l'analisi magari non hai trovato l'analisi del sito per il tuo business però se voi avete queste dovete trovare delle analisi che si trovano su internet scrivendo queste cose oppure le leggete qualcuno che vi dimostri uno, due, tre forse la più particolare è l'ultima l'interesse per l'open data da parte lui dice del cliente finale il che significa che prende 20 persone 50 persone prende noi in una stanza ci fa un questionario come quello lì e ci fa tre domande se tu avessi un sito o un altro con questi dati che livello lo preferiresti o no con che livello preferisci questo rispetto all'altro certo quattro domande che servono per dare una domanda una risposta graduata proviamo a farlo nel senso che questo praticamente è la parte dell'ambiente abbiamo definito cosa c'è intorno abbiamo definito sostanzialmente che queste componenti vanno in quella direzione se ho dei dati che testimoniano questo ho convinto qualcuno che ma è anche me stesso che sto facendo qualcosa in cui almeno il mercato potenziale sta aumentando e quindi c'è mercato sì adesso vediamo quanto è mercato sì perfetto dopo arriviamo alla ricerca di mercato quella roba lì il mercato facciamo il mercato potenziale il mercato qualificato e il mercato servito allora il servito penso in questo momento è zero se è una start up sì quindi dobbiamo andare a qualificato e potenziale sì il potenziale come calconeresti un possibile mercato potenziale tuo andrei a sommare tutti quelli che sono ripeto la definizione sono praticamente tutti quelli che sono interessati a comprare ma che possono comprarselo ok pertanto sono tutte le agenzie immobiliari o catene di brand di agenzie immobiliari altrettanto qualunque realtà turistica italiana e estera però rimanendo nel mercato italiano parliamo di circa centomila strutture ricettive prima di arrivare a quello tu hai già scelto di andare su queste sì ho limitato su questo per un semplice motivo dove posso fornire dei dati praticamente certi perché il mio potenziale finanziatore lo prenda in considerazione per non campare per aria in un mercato potenziale è il numero dei siti che si occupano di turismo sì idem per le agenzie immobiliari facciamo turismo per un attimo ok numero dei siti che si occupano di turismo lo trovo mediante una ricerca di mercato non lo trovo mediante una ricerca di mercato numero dei siti per percentuale turismo probabilmente non troverò il numero dei siti ma da qualche parte trovo l'incidenza dei settori sui siti internet sì e questo è già più probabile anche solo non solo percentuale di cosa guardano gli italiani perché io posso avere tot siti che fanno però se non li guarda nessuno forse non è quello il potenziale quindi qua in questo modo starei un attimino attento a siti potenziali perché se io ho un sito e sostanzialmente non mi guarda nessuno è una numerica che per un attimo potrebbe non interessarmi quindi o ho i siti e da qualche parte trovo che nel turismo quelli che hanno a meno un tot di navigatori sono a rischio di avere un mercato potenziale enorme vi ricordate che se io prendo il potenziale poi prendo quelli veramente serviti e c'è una distanza enorme magari sto considerando un numero di siti spasmodico ma non è così va bene questo è il mercato potenziale poi a questo punto mi serve il qualificato il qualificato è raggiungibile e che è ideale che lo faccia cioè che questo qui praticamente gli serve e allora qui devo determinare delle variabili per renderlo qualificato quando un sito potrebbe essere qualificato per te io ho già una ne ho messa qualcuna uno è il traffico è difficile che abbia un sito in cui ci sono 10 persone che metta un'applicazione open data certo poi l'altra cosa sono i soldi cioè che dietro quel sito ci sia qualcuno capace di investire di creare attività che cosa lo rende qualificato un sito qualificato per il tuo mercato che cosa ti viene in mente che dietro ci sia un'attività costante quindi un'attività di business dietro anche sul sito la voglia di aggiornare di aggiungere dei dati che è intrinseco se c'è un'attività di business dietro avviene nord sud centro ovest niente geografia no non fa differenza azienda rispetto al privato più uno è isolato meglio è meglio però è una mia sicuramente privati però abbiamo detto per un attimo sì attività private ok quindi se io ho siti del turismo che hanno limitato traffico e dietro c'è qualcuno valiente che ha dei soldi è un'attività almeno valiente di business dietro che abbia realizzato un sito che abbia l'esigenza di questo settore turistico che abbia un sito abbia l'esigenza di avere un sito il potenziale sono già siti esistenti ok quindi abbiamo questo adesso devo stimare questo pezzo quindi metodo dall'alto questo per percentuale di quelli che hanno il traffico di un certo tipo per percentuale di quelli che hanno un coso per percentuale di attività di business probabilmente in questo caso serve il contrario quindi mi chiedo facciamo al contrario chi è che ha traffico che ha praticamente soldi e che dall'altra parte è attività valiente di business facciamolo al contrario alberghi maggiore di tre stelle e i dreams per capire quindi siti di viaggi i viaggi i viaggi con traffico perché questo lo vedo da shine shot che sta scritto sotto praticamente shine stat che sta sotto il coso con traffico o vado su google ad sens maggiore di x o giù google ad verse come cosa oppure più in generale ti dice una cosa diversa praticamente con google adverse adverso non sbaglio si chiama no? vuol dire che fa vedere le statistiche medie vabbè comunque c'è un'applicazione di google che fa vedere dal google analytics esatto ad sens ad sens il traffico dei vari siti e lo puoi fare per settore sì settore realizzabile quindi in questo caso se voglio stimare questa roba piuttosto ovviamente che prendere tutto il mondo e trovarmi sulle ricerche di mercato le percentuali faccio prima dire ok se queste sono perché qualificato devo fare devo fare i 5 modelli di mercato quelli che sono qualificati sono quelli che rispondono le mie categorie come le ho individuate date queste categorie saranno o questi quindi ho preso tutti quelli con l'albergo a 3 stelle avranno sicuramente un sito avranno sicuramente traffico avranno sicuramente soldi sotto 2 stelle ci penso dopo questo è qualificato per me ok oppure prendo quelli che hanno siti di viaggio in modo traffico oppure viceversa ho preso direttamente i siti avevo l'applicazione l'ho trovato al contrario non parto da sopra parto da sotto visto che questo qualificato è complesso se il numero di accendini è una cosa diversa quindi i due metodi valgono a seconda praticamente di quello che ha più senso fare l'importante è che se io qua tiro fuori 100 e qua tiro fuori 20 i 20 e i 100 siano spiegati ma per voi non tanto perché questo significa ah sì è giusto questo significa ah sì me lo dice questo ed è qualificato sì perché ci sono almeno x persone perché dietro c'è un business ok e così ho fatto la domanda potenziale la domanda valiente di mercato a sto punto proviamo a segmentare ok quali possono essere due variabili di segmentazione di questo business totalmente separate sì beh primo potrebbe essere quello relativo all'isola quanto è isolato un sito sito inteso come un punto quindi del nostro interesse per cui l'albergo al bed and breakfast sul cucuzzolo della montagna ha tutto l'interesse di mostrare le attività intorno a lui necessità di comprarlo sì alta o bassa poi l'altra l'affluenza dei visitatori perché perché maggiori sono i visitatori lo dico in maniera semplicistica maggiore la seccatura all'albergatore a chiedergli dove posso andare a mangiare dove trovo ma non implica una necessità maggiore no non è una necessità necessità di comprare il software necessità di comprare app sì ok allora abbiamo sbagliato necessità forse se devo segmentare questi siti che è un mio mercato potenziale tu mi dici uno e visitatori io qua ci metterei qualcos'altro preparazione dell'utente come dicevo prima la sua incapacità di comprendere quanto gli è utile questo però l'utente sarebbe quello che c'è l'albergo sì però occhio questo tu stai segmentando il tuo mercato perché quello che ho detto prima dobbiamo uscire con quattro siti diversi quattro aziende diverse quindi tu dovresti dire io offro un prodotto a quello che ha molti visitatori un prodotto a quello che ha pochi visitatori sì è un prodotto a quello che dobbiamo trovare un altro asse che è totalmente separato separato se ha senso questo sì sì i visitatori hanno senso perché è un grazie ad una tecnologia simile anche il visitatore sceglie più volentieri però chi ce n'ha pochissimi tu gli daresti un prodotto diverso da quelli che ce n'hanno tantissimi non è importanza va bene anche quello con poco il prodotto sarà leggermente diverso conterrà meno dati perché lui non ne ha così tanto bisogno perché ha pochi visitatori ha poca necessità di fare ok quindi questa mi introduce una cosa diversa va bene chiedo scusa se ho fatto un concluso occhio l'imprenditore vende sempre a tutto e a tutti c'è proprio tanto è la stessa cosa però vende no la segmentazione serve per decidere proprio perché allora vendiamo l'altro assi io intanto ti copro questo perché me l'hai detto tu adesso copriamo questo quello non vendi non vendi perché se sono basso e devo vendere la stessa cosa con qualcosa di nemmeno non è un tuo segmento di mercato tanto si può sempre vendere tutto a tutti quello c'è sempre tempo sì 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 però io segmento per fare il prodotto giusto al cliente giusto se no non ho segmento allora è l'alfabetizzazione del mio cliente quella nella difficoltà di vendita nella difficoltà tu devi individuare del ragionamento legato al fatto che tu stai segmentando il tuo mercato per quello che è sostanzialmente il bisogno che tu copri con quel prodotto quindi giustamente hai dei clienti che hanno pochi visitatori o tanti visitatori no? sì secondo me qui c'è un tema proprio di forse di complessità del sito se tu intervieni sulla complessità del sito sì oppure è ricchezza di quello dietro se tu intervieni su quello dietro per esempio se hai aziende corporate e aziende small business questo è un parametro cioè una cosa è vendere a uno small business l'altra cosa è vendere al professionista l'altra cosa è l'agenzia immobiliare di paese l'altro è vendere a qualcosa di più grosso cioè il sistema che tu gli vendi è un po' più complesso perché è proprio il sistema che è più complesso è vero questo? non lo conosco io il tuo business no no è questo il problema intendevo con l'alfabetizzazione del cliente è proprio il fatto che è complesso a trasmettergli la sua esigenza quindi io azienda e small business quindi sullo small business che ha pochi visitatori non ci vado non è un mio mercato quindi all'interno di questo mondo qui ecco perché io già devo escluso i due stelle perché se è troppo piccolo non è il mio mercato a questo punto cioè non è quello che vuole comprare ho capito se invece prendo l'azienda anche se pochi visitatori per l'azienda ha senso e quindi faccio un prodotto di tipo A sempre il tuo ma di tipo A se invece io molti visitatori anche se piccoli faccio un prodotto di tipo B che costa poco qui io devo fare un prodotto di tipo C enterprise per la gestione di tante domande sì quindi devo dire a questo qui che ce ne sono 20 che questi 20 si suddividono in questo modo e quindi se io prendo queste categorie o prendo questi siti allora il sito mi dà quest'asse sì da Google invece da questo io risalgo al contrario e mi determinano questi le tipologie a questo punto io dico esattamente questi 20 sono 10 8 1 per esempio e 1 ho fatto un calcolo così al volo e che significa che il mercato è esattamente questo e io ho 3 idee diverse per il mercato chi mi dà i visitatori l'analisi di Google chi mi dà questo qui l'analisi invece delle quanti alberghi ci sono quante agenzie immobiliari ci sono della selezione di categorie quindi a livello macro me li metto dentro e provo a vederli quindi il mio mercato qualificato in realtà si scompone in questo modo io ho già 3-4 idee di prodotto che possono essere adatte perché il mio è molto diverso dagli altri e quindi si prende il competitor e si fa questo ragionamento qua competitor 1 competitor 2 competitor 3 competitor 4 variabili sicurezza completezza prezzo su un prodotto B cioè quello che abbiamo detto lì e si fa l'analisi dei competitor quindi il business plan mi sarebbe dire se per lo stesso prodotto che offro io queste sono le cose che hanno gli altri o non hanno o ce l'hanno a livello 1 o a livello 2 io con franchezza ti dico che gli altri sono più economici meno cari c'è un competitor che vale 25 mila euro a installazione e c'è un altro invece che costa zero livello di servizio certo anche lo stesso impegno di competenza per installarlo perché la stessa cosa è possibile già realizzare con dei software GIS i quali però ci vado a funzionare vi quadra la sopra più o meno voi avete una start up la quadra la testa non ti preoccupare poi quanta ricorderai voi avete una start up la prima cosa è definite la business definition definite chi siete cosa fate e per chi come avete visto la business definition non sono 900 parole perché uno normalmente dice cosa fai no cosa sono cosa faccio e per chi basta produco oppure produco o commercializzo o distribuisco o vendo cioè il primo verbo e cosa fate lui è un provider il primo verbo cominciate con un verbo siete commercianti produttori distributori ricordate le diverse tipo uno di questi siete principalmente realizzatori disegnatori sviluppatori cioè il primo verbo indica che cosa fate di che cosa per chi e questo va definito fra dieci anni quelli che comprano le cose vostre devono sentirsi che vengono da voi perché siete i più sicuri i più bravi il migliore in che cosa e questa è la visione dopodiché nel mercato in cui state ci sono delle cose esterne interne che giustificano la vostra idea di business perché è cambiata la normativa perché ricordate l'esempio del discount tutto quello che era spiegato erano delle motivazioni perché convieneva fare il discount no tant'è che poi l'hanno chiuso e abbiamo detto ma perché l'hanno chiuso cosa è cambiato nelle motivazioni perché il contesto economico fa sì che si voglia risparmiare voi lo date per scontato però nei fatti è così quindi se uno lo ripete è meglio perché va di entrare la tecnologia motivazioni che sostanzialmente spiegano giustificano il vostro business a questo punto queste motivazioni bisogna dare dei dati numerici che lo giustificano se io dico che la normativa facilita il mio business allora sta crescendo questo territorio ieri era tutto closed source adesso è tutto perdono era tutto closed data adesso è per default è open ma sta crescendo quel numero che giustifica il fatto che il mio business sta crescendo poi salvo dopodiché io mi rivolgo a un mercato che è fatto da x persone a livello potenziale più grosso che ci sia ma stante questo questi sono veramente quelli siccome siccome io servo zero perché se voi servite zero devo dire già quelli che servite però siccome è zero dobbiamo fare almeno il qualificato mettiamo che servo uno esatto mi rivolgo a questi che niente questi a cui mi rivolgo valgono 20 questi 20 però si aprono in questo modo e quindi io ho pensato tre soluzioni diverse per questi qua le soluzioni che ho pensato rispetto ai miei competitor hanno dei punti di forza e dei punti di debolezza quindi io sono più bravo di questo qua più bravo di questo qua più bravo di questo qua ma su altri invece no e quando compiterete questa vi renderete conto anche se qualitativa che o degli assi non li coprite o uno è bravo ma l'altro no però per voi siamo in grado di valutare dove pilotare il prodotto e magari rinforzare eventuali o meglio una relazione di marketing come piazzarlo al meglio cosa è qui l'esercizio bene? ottimo dove era due anni fa? dove era due anni fa? io dove ero due anni fa facevo la start up poi l'ho chiusa no scherzo lascio se passi ah grazie scusate va bene grazie a tutti grazie buona analisi di mercato divertitemi va bene grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti